Buondi ragazzuoli, buon martedì a tutti quanti voi e vi annuncio già che ci sarà la live serale quindi stasera mercato, domande, questioni, novità perché sono giorni caldi non solo sul piano delle temperature ma anche sugli sviluppi legati ai quattro fronti di cui vi andrò a parlare appunto già in questa mattinata quindi mi raccomando mettetevi comodi, se rosseggiate il vostro caffè se vi sta facendo compagnia, donate il tragitto al lavoro meglio, se siete nel cesso uguale prima di iniziare lo sapete perché vi chiedo l'interazione, aiuta eccetera a far crescere il canale e a spingere youtube è un algoritmo dove oltre al tempo di visualizzazione che è la metrica più importante tutte le interazioni che fate sono importanti quindi like, lasciatelo per quello iscrizione se ancora non l'avete fatta, mandate dei piccoli input che aiutano e migliorano il canale grazie ragazzi allora, il primo fronte legato alle 24-48 ore che vivremo e in queste ore dovrebbe arrivare appunto, secondo Fabrizio Romano e secondo tantissimi esperti di mercato la firma finale di Tiago Motta, per cui di conseguenza a breve avremo l'ufficialità e basta speculazioni su questo discorso che c'è gente che dall'underground ci prova ad insinuare il dubbio e più che altro credo che questa gente qua ci scommetta, no? ovvero, tanta gente cosa succede che sui social diventa magari famosa perché? perché cerca sempre di essere la controparte di una narrativa in questo caso c'è Tiago Motta che è vicino alla Juventus eccetera, è già tutto ufficiale tutta la stampa allineata, c'è qualcuno che dice, vabbè ma non è ancora firmato qual è il punto, insinua qualche dubbio, si autoconvince di questo e cerca di fare poi la sparata e la propria deduzione senza però avere delle fonti certe quindi io vi dico, su Motta sono abbastanza tranquillo e aspetto con calma e serenità l'evolversi della situazione, ok? e poi vedremo l'altra fronte invece caldo è legato a Di Lorenzo che lascerà a quanto pare il Napoli e non è solamente una questione tecnica ma c'è anche dell'altro di personale da quanto mi è stato raccontato e quindi lui è intenzionato a lasciare Napoli e lasciarsi alle spalle Napoli soprattutto per questa ragione per cui non c'è una spaccatura, una frattura e basta con la società sul non rinnovo eccetera c'è proprio una volontà del giocatore di cambiare aria per necessità personali e in Torino ci vedono a metà che può essere buona può rientrare in uno scambio con Chiesa? secondo me nel dialogo ci potrebbe rientrare qualora Federico Chiesa decidesse di non continuare il proprio percorso con la Juventus quindi non rinnovando con la Juve a quelle che sono le cifre promesse si aspetta probabilmente un ingaggio più alto anche se io fatico, mi interrogo, fatico a trovare una risposta su un'eventuale squadra che può dare a Federico Chiesa un ingaggio di quella portata cioè sopra i 5 passa ma il Napoli ti può dare 7-8? pur liberandosi dall'ingaggio di Osimène? ma faccio veramente fatica a pensarla a una cosa simile poi magari il ragazzo si accorda anche a meno ma a quel punto siamo noi a sentirci traditi perché non rinnovi con noi una cifra vicina ai 5 milioni ti accontenti di meno in una piazza che secondo me è un downgrade al di là della presenza di Antonio Conte per quello che è il tuo percorso, la tua carriera mia opinione personale per Chiesa io ovviamente spero che rimanga alla Juventus però capite bene che qualora non combini nulla sul rinnovo beh a quel punto ragazzi la cessione mi pare più che naturale non vedo altra via perderlo a zero per me è un erroraccio grave quindi bene che la Juventus decida eventualmente di piazzarlo per Di Lorenzo più un conguai a favore nostro quindi vediamo un po' cosa succederà questa è un'altra situazione che aveva monitorata l'altra situazione che invece va monitorata molto molto bene perché arrivano sempre più voci insistenti è quella legata alla cessione sia di Ling Junior sia di McKennie in cambio di Douglas Lewis e la Juventus dovrebbe mettere sul piatto altri 10 milioni Marianella si è detto quasi scandalizzato da questa situazione perché apprezza tanto Douglas Lewis e pensa che quella cifra sia anche bassa rispetto a quello che è il valore del giocatore ora io non mi sono fatto un'idea chiarissima del valore e della portata di questo colpo fatto sta che la Juventus riesce a dare una passata di spugna totale a due giocatori che hanno situazioni contrattuali anche qua complicate, difficili da risolvere giocatori per i quali non riesci più a trattenerli li molli, li monetizzi e cerchi di rimescolare un po' le carte al centro campo andando a ripolpare con gente che abbia un bel po' di qualità e Douglas Lewis a quanto pare di qualità ne ha abbastanza e ha anche credo degli apprezzamenti importanti da parte dei vari scout dei vari amanti della Premier tra cui lo stesso appunto Massimo Marianella io non vi so dire su questa cosa fatto sta che qua sono così tante le trattative da fare che non tutte potranno andare sempre a favore nostro quindi io vedo invece in queste opportunità di mercato vedo veramente la possibilità di sfoltire alla rosa di incassare e allo stesso tempo di far mercato e quindi di prendere dei colpi quasi a zero perché ti stai finanziando quel colpo là con le uscite uscite che sono quasi forzate da situazioni contrattuali per cui non abbiamo neanche il coltello dalla parte del manico e dobbiamo solamente spingere affinché queste non portino a un'uscita a zero poi e quindi capite bene che giuntoli dal punto di vista della trattativa si trova in una situazione molto scomoda il quarto fronte che invece dobbiamo ottenere con grande attenzione e mi dispiace un sacco il fatto di non averlo salutato bene Shesny a quanto pare ha aperto alla possibilità di andare in Arabia per due anni l'Al Nasser a quanto pare ha alzato la propria offerta a 20 milioni a stagione quindi un contratto biennale con 20 milioni netti a stagione ragazzi sono soldi importanti e io credo che eventualmente la Juventus non farà neanche fatica a chiedere questi benedetti 5-6 milioni per non fare minusvalenza ma liberarsi comunque di un ingaggio importante e pesante e aprire così un po' la sbloccare quella che è la situazione di Gregorio mi dispiace però una cosa per Shesny perché è sempre stato secondo me molto sottovalutato anche da tanti della nostra tifoseria invece io reputo Shesny intanto dallo spessore umano enorme un grande uomo spogliatoio mi dispiace perderlo è un gran portiere e quindi veramente perdiamo un bel pezzo di storia della Juventus se ne va libera spazio lo fa in un certo senso nel peggiore di modi senza salutarci e questo è il mio rammarico cioè il non salutare Tec un po' ragazzi mi dispiace emotivamente un po' mi prova quindi questo concedetemelo però vedete sono tanti 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 i lavori che deve fare sia Giuntoli sia Pompili e poi Stefanelli quando arriverà sarà una squadra di lavoro molto impegnata quest'estate altro che fine settimana a Forte di Marmi qua c'è da mettere sotto un bel po' un bel po' di situazioni bisogna allestire una squadra competitiva bisogna secondo me avere già uno staturo importante prima del ritiro e il ritiro ragazzi manca un mese non è che manchi tanto per cui c'è da progredire un po' con le trattative e dare a Tecomotta già una buona base su cui lavorare fino all'inizio quindi questo è teatrocio ragazzi aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti su tutti i vari fronti quindi abbiamo menzionato al principio la situazione Douglas Lewis McKinney eccetera Eling è di Lorenzo Barra Chiesa poi abbiamo parlato di di Texcesni e poi mi sto dimenticando qualcuno forse adesso nei vari discorsi Chiesa Schiesni ah vabbè sì la firma di Tiago Motta che è stato il primo aspetto che vi ho menzionato non si trattava di giocatori di movimento giocatori di campo ma si trattava esattamente della firma dell'allenatore quando arriverà quando non arriverà che questo diventa un tormentone che è destinato però a terminare questo è tutto ragazzi ci vediamo più tardi vi mando un forte braccio e sempre fino alla fine Forza Juve Belli Grazie